Benvenuti a tutti in questo nuovo video dove oggi parleremo della nota 10.940, il cavillo che potrebbe salvare la Juventus dalla penalizzazione dei 15 punti. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Il ricorso al Tar. Ieri il Tar della Lazio ha accolto il ricorso presentato da Fabio Paratici e Federico Cherubini. In pratica la lettera della Procura federale alla Covizoc con i chiarimenti interpretativi sulla vicenda delle plusvalenze dovrà essere consegnata ai legali delle difese. La nota 10.940. Fin qui il rilascio della nota 10.940 era stato negato. Si tratta di uno dei punti del ricorso della Juventus al collegio di garanzia del CONI perché in linea teorica potrebbe retrodegare i termini di un obbligo di un'apertura di inchiesta, rendendo parte degli atti inutilizzabili. Saranno i giudici a decidere. Ora però il documento entra negli atti del processo sportivo. L'annullamento è possibile? In quella nota l'organo di vigilanza chiedeva chiarimenti alla Procura su alcune operazioni sospette. Uno dei nodi della tesi difensiva bianconera nel ricorso al collegio di garanzia del CONI perché potrebbe anticipare la data di cui il Procuratore viene e venuto a conoscenza di possibili irregolabilità sul fronte delle plusvalenze e quindi almeno secondo la difesa potrebbe portare all'annullamento l'intero procedimento per decorrenza dei termini. L'annullamento 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 Grazie a tutti